Il progetto MicoMais impiega nella produzione del mais da trenciato dei funghi, i funghi micorrizici arbuscolari che in pratica hanno tanti vantaggi ma per spiegare il vantaggio principale diciamo che si legano alle radici delle piante ne aumentano la superficie e quindi favoriscono l'assorbimento di nutrienti, favoriscono l'assorbimento di acqua migliorano lo stato di aggregazione del suolo, quindi il suolo trattiene più acqua aiutano la pianta a resistere contro gli attacchi antiparassitari e in più poiché comunque la pianta risponde alla micorrizza che è comunque uno stress che la pianta vive produce sostanze antiossidanti, quindi quel foraggio poi ha anche delle proprietà nutraceutiche infatti noi il nostro progetto finisce tra un anno ma ne abbiamo avuto finanziato un altro sulla base dei risultati di questo che è Ceramico nel quale ci proponiamo di alimentare bovini da latte con i foraggi prodotti sia mais ma sperimenteremo anche il sorgo con l'uso appunto dei funghi micorrizici.